Ghilano espugna il pala Igor di Novara e torna la vittoria in campionato. Che partita è stata Elena? È stata davvero una bella partita con tanti cambi interessanti. Il primo set è stato davvero difficile per Novara perché noi abbiamo vinto tantissimo in battuta e dopo hanno giocato un po' meglio, però alla fine secondo me ha vinto quello che è arrivato il gol e abbiamo messo tanta energia e non ci siamo sbagliati anche tanto quindi sono davvero contenta per la vittoria e tre punti è molto importante. Secondo te quale fondamentale ha fatto la differenza oggi? Secondo me oggi la battuta Ricci è stata davvero la grande differenza. Noi abbiamo tenuto molto bene e quindi sì, secondo me questa è la fondamentale. Sei tornata in campo anche in campionato dopo lo stop per il piccolo problema fisico. Quali sono state le tue sensazioni? Sono molto contenta di essere tornata è stato due settimane un po' difficile per me avevo tantissima voglia di tornare quindi oggi finalmente è arrivato quindi sono davvero contento. Grazie.